Torna, questa volta a Firenze, la manifestazione per la prevenzione sanitaria Respiriamo. Un evento che ha offerto la possibilità a chi soffre di asma, rinite e BPCO di incontrare professionisti in grado di fornire preziosi consigli per il trattamento di queste patologie, che spesso non sono gestite in modo corretto. La BPCO è la broncopneopatia cronico-ostruttiva, un nome difficile ma che indica una malattia estremamente diffusa e forse la malattia più diffusa in ambito respiratorio. È una malattia respiratoria caratterizzata da sintomi quali tosse, espettorazione cronica ma soprattutto il sintomo fondamentale è la difficoltà respiratoria, l'affanno, quella che in termine tecnico noi definiamo dispnea. È una malattia estremamente diffusa perché nella popolazione il 5% della popolazione soffre di broncopneopatia cronico-ostruttiva. Ovviamente il 5% è un numero importantissimo, è una percentuale molto alta, però in questo 5% dobbiamo considerare tutti i livelli di gravità della malattia, chiaramente da livelli di malattia lieve a livelli di malattia molto severa. Quindi c'è un range di malattie estremamente ampio. È una malattia molto importante perché crea enorme disabilità nelle malattie severe o molto severe. Disabilità che limita moltissimo le attività della vita quotidiana di queste persone e chiaramente provoca grosso disagio e una perdita notevole di qualità della vita. Gli obiettivi principali di questi incontri sono quelli di ricreare o ristrutturare direi il rapporto fra medico e paziente perché vengono fatti appositamente fuori dagli ambulatori perché è più un rapporto umano e quasi di amicizia direi e si parla molto più liberamente della propria malattia. E lo specialista risponde in parole comprensibili al paziente molto più facili e il paziente riesce a capire. I pneumologi hanno offerto importanti spunti su come convivere con queste cronicità e soprattutto quali procedure e indicazioni vadano seguite al fine di mantenere una buona qualità respiratoria. Incontri che erano già stati sperimentati nelle piazze di Roma, Milano, Padova e Palermo nel 2016 e che sono stati riproposti quest'anno presso l'hotel Minerva di Piazza Santa Maria Novella a Firenze, mettendo in risalto l'importanza di un problema tipicamente estivo e che colpisce il 5% della popolazione mondiale.